Ciao ragazzi, benvenuti qua a un nuovo gameplay, oggi proverò giocare a Età della Pietra Praticamente è un gameplay dove abbiamo praticamente armi dell'antichità greca Qua ne sento uno Oh mamma Uh, godo, ce n'è un altro qua Godo, mamma mia Via Ok No Dai, che palle, quelli che ti prendono pugni Non hanno le palle di fare le robe Non è salio Dai, che due coglioni, oh Minchia, siamo ancora secondi Terzi, porca broia Madonna, come si muovono Sì, dai, vieni fuori Che palle ho Uh, t'ho beccato il piede, stronza Godo C'è uno qua Credo Mi prenderei cosa? Mi sento un altro qui Dai, madonna, pensavo mi avesse umiliato, diventavo matto Madonna, il primo è irraggiungibile, mi sa Solo io trovo le persone che si muovono come Guarda, guarda, guarda Ok Madonna Potevo umiliarlo, sinceramente Guarda, 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 quanti, quanti No, me l'ha preso lui Sì, vabbè, ma spara Che cazzo Godo Mamma mia Sono primo? Sono primo Sti cazzi Ho una paura fortuna, comunque No Sto, su Voglio non potre me Uccisione Sono molto attento Ho sentito un altro Do Ciao